Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla Statale Setteappia sino a sabato 8 settembre per lavori di manutenzione troverete attivo il senso unico alternato in tratti saltuari tra l'allacciamento con la Statale Settequatter Domiziana e lo svincolo San Giorgio del Sannio. Senso unico alternato per lavori sino al 30 settembre anche sulla Statale 163 Amalfitana tra Praiano e Conca dei Marini. E sulla Statale 268 del Vesuvio sino alle ore 17 di sabato 8 settembre troverete chiusi al traffico il tratto compreso tra gli svincoli Somma Vesuviana-Cupa-Dinola e Ottaviano-Zona Industriale in direzione Angri ed il tratto compreso tra gli svincoli Ottaviano-Zona Industriale e Ottaviano-Centro in direzione del capoluogo Partenopeo. Sulla tangenziale di Salerno invece sino al 21 settembre ancora lavori di manutenzione con carreggiata ridotta nel tratto compreso tra gli svincoli Salerno-Est e Zona Industriale in direzione Fratte. Infine ci spostiamo a Napoli dove vi informo che è regolarmente ritornata in funzione la funicolare di Mergellina. È tutto dalla redazione Muoversi in Campania. Un saluto da Gigi Gallo.